Dal 1 settembre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i voli nazionali, per i treni ad alta velocità, gli intercity e i convoi a lunga e media percorrenza. Una regola estesa anche agli autobus di linea che colligano differenti regioni e quelli a noleggio con conducente. Per tale ragione sono tantissimi i Novax che si preparano a manifestare e a bloccare la circolazione delle stazioni ferroviarie in tantissime città italiane perché contrari all'obbligo che entrerà in vigore. Tutto ciò emerge da diversi gruppi su Telegram dal titolo Basta dittatura. Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno. Lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione ad ogni singolo cittadino. L'Australia è bloccata da oggi finché la dittatura non sarà distrutta. Tutte le autostrade bloccate prepararsi tra poco in Italia. E quanto si legge nelle chat dei gruppi? Tra le città coinvolte figurano grandi città come Genova, Roma, Torino, Milano, Bari, Napoli, Salerno, Caserta, ma anche il Cilento farà sentire la sua voce e ciò avverrà nelle stazioni di Agropoli, Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri. Gli incontri sono previsti alle 14 e 30 del primo settembre fino a sera. Dalla Locandina inoltre emerge che tutto è organizzato dal popolo autogestito pacifico. Sono proteste apartitiche, spontanee, autogestite, non sono organizzate da nessuna persona in particolare ma dal popolo. È stato stilato un programma per la prima settimana di settembre che prevede proteste e cortè in tutta Italia il 4 settembre alle ore 18 e il 6 settembre uno sciopero che arriverà fino al Parlamento.